E ciao a tutti ragazzi, sono Zaborg e benvenuti in questo nuovo video. Voglio provare a dare via a questa serie di Marvel Future Fight e in cosa consisterà. Utilizzerò dei personaggi cosiddetti for fun, quindi che non saranno ai livelli di Strange, di Cable, di Jane e di tanti altri utilizzati per l'ABA, per il PvP, eccetera, e potenziarli al massimo delle mie risorse, per poi testarli contro World Boss oppure in BA e vedere che punteggio faranno. Come primo personaggio di questa serie andremo a vedere Ebony Mav, che mi ha colpito davvero particolarmente dopo il film di Avengers Infinity War. Infatti mi ha sorpreso molto il fatto di come si è riuscito a tenere testa a diversi Avengers grazie ai suoi poteri mentali e telecinetici. Dopodiché sarete voi che mi scriverete nei commenti quali personaggi portare. Ragazzi, massimo supporto per questa serie, ci vogliono diverse risorse per riuscire a potenziare un personaggio che tra l'altro non è da top, quindi via con i like, 50 like, prossimo personaggio, prossimo video e ora vi lascio il filmato. Ci vediamo dopo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!